«Quando ve ne sarete impadroniti?». Dopo di ciò smisero di supplicarlo. Poi si tolsero i vestiti e fecero il bagno nel fiume, che al guado era poco profondo, limpido e sassoso. Quando si furono asciugati al sole, che adesso era forte e caldo, si sentirono rinfrancati, pur essendo ancora tristi e un po' affamati. Di lì a poco attraversarono il guado, portando in spalla lo hobbit, e si incamminavano attraverso l'alta erba verde e lungo le schiere di larghe querce e alti ulmi. «E perché si chiama Carroc?» domandò Bilbo, che camminava a fianco dello stregone. L'ha chiamata Carroc perché Carroc è la parola che usa nella sua lingua. Questo tipo di cose le chiama Carroc. E questa è la Carroc perché è l'unica vicino a casa sua e la conosce bene. Chi la chiama? E chi la conosce? Il qualcuno di cui vi ho parlato. Una persona davvero eccezionale. Dovete essere molto educati quando vi presenterò. Vi presenterò gradualmente. A due per volta, penso. E dovete stare attenti a non infastidirlo. Altrimenti solo il cielo sa cosa succederebbe. Può essere molto spaventoso quando è in collera. Sebbene sia molto gentile quando è di buon umore. Però vi avverto che va in collera facilmente. I nani si affollarono tutti intorno allo stregone quando lo udirono parlare così a Bilbo. «È questa la persona da cui ci stai portando?» Domandarono. «Non potevi trovare qualcuno con un carattere un po' meno difficile? Non faresti meglio a spiegare tutto un po' più chiaramente?» E così via. «Certo che lo è! E no, non potevo! E stavo spiegando molto chiaramente!» Rispose bruscamente. «Se volete saperne di più si chiama Beorn. È molto forte ed è un mutatore di pelle.» «Cosa? Un pelliciaio? Un uomo che chiama i conigli Lapin? Quando non spaccia le loro pelli per pelli di scogliattolo?» domandò Bilbo. «Oh santissimo cielo! No, 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 no!» disse Gandalf. «Non essere sciocco, signor Peggins. se ti riesce. E per carità non pronunciare di nuovo la parola pellicciaio a meno di cento miglia da casa sua. E neanche tappeto, cappa, stola, manicotto o altre sgraziate parole dello stesso genere. È un mutatore di pelle. Muta la propria pelle. Talvolta è un grosso orso nero. Talvolta è un uomo forte dai capelli neri con due grosse braccia e una gran barba. Non posso dirvi di più, ma comunque questo dovrebbe bastare. Alcuni dicono che sia un orso discendente dai grandi e antichi orsi delle montagne che vivevano lì prima che arrivassero i giganti. Altri dicono che sia un discendente dei primi uomini che vivevano in questa parte di mondo prima che arrivassero Smaug e altri draghi e prima che gli orchi arrivassero sulle colline dal nord. Quale sia la verità non saprei dirlo anche se personalmente mi pare più verosimile la seconda ipotesi. Non è il tipo di persona a cui far domande. Ad ogni modo è soggetto solo al suo potere magico. Vive in un querceto e ha una grande casa di legno e come uomo alleva bestiame e cavalli meravigliosi quasi quanto lui. Essi lavorano per lui e parlano con lui. Non li mangia né caccia o mangia animali selvatici. Tiene alveari di api grandi e feroci e per lo più vive di panna e miele. Come orso vaga in lungo e in largo. Una volta l'ho visto seduto tutto solo di notte in cima alla carroc. Intento a guardare la luna che calava verso le montagne nebbiose e l'audito rugliare nella lingua degli orsi verrà il giorno in cui essi periranno e io tornerò. Questa è la ragione per cui penso che sia originario delle montagne. Adesso Bilbo e Nani avevano più che abbastanza su cui meditare e non fecero altre domande. Davanti a loro c'era ancora molta strada da percorrere ed essi avanzarono lentamente su per i pendii e giù per le valli. Faceva sempre più caldo e talvolta si riposavano sotto gli alberi. Allora Bilbo si sentiva una fame tale che avrebbe mangiato persino le ghiande se ce ne fosse stata qualcuna abbastanza matura da cadere al suolo. Il pomeriggio era per metà trascorso prima che si accorgessero che qua e là cominciavano a vedersi grandi macchie di fiori in ognuna delle quali crescevano solo fiori dello stesso tipo come se fossero stati piantati apposta. Erano per lo più garofani macchie undeggianti di garofani selvatici e garofani purpurei e larghe strisce di piccoli garofani bianchi dal profumo di miele. Nell'aria c'era dappertutto un ronzio un brusio un fruscio. Le api si affaccendavano per ogni dove. E che api! Bilbo non aveva mai visto niente di simile. Se una dovesse pungermi pensò mi gonfierei il doppio di quello che sono. Erano più grossi dei calabroni. I maschi poi erano più grossi del vostro pollice un bel po' più grossi e le strisce gialle sui loro corpi in nero cupo brillavano come oro fiammante. Ci stiamo avvicinando disse Gandalfa. Siamo al confine dei pascoli per le sue api.